Buonasera a tutti, bentrovati. Purtroppo il Varesotto, soprattutto il nord della provincia e Luino, sono sconvolti dalla scomparsa di Don Giorgio Ferrario, molto noto anche come educatore, aveva 83 anni e purtroppo è stata vittima di un incidente di montagna a Monteviasco, evidentemente durante una passeggiata, davvero una doccia gelida, il nostro cordoglio, la nostra vicinanza all'intera comunità di cui affettuosamente il Don si è preso cura per tanti. Noi però vogliamo iniziare questo TG, dei servizi dedicati a quanto accaduto all'Enaip, ieri l'aggressione a coltellate da parte di uno studente ai danni di una professoressa di 57 anni, ne ha parlato tutta Italia, abbiamo dedicato tutta la nostra apertura di ieri al tema, su cui torniamo adesso, prima di tutto perché domani è in programma un incontro in prefettura con i vertici lombardi dell'Enaip, naturalmente ci saremo anche noi e vi racconteremo tutto. Adesso riprendiamo le fila del tema per ascoltare diversi punti di vista, il primo è quello di un ex bullo intervenuto oggi a Bustarsizio. Il messaggio è che si può cambiare, non c'è un destino già scritto, fino all'ultimo si può decidere di cambiare il finale, che è un po' la frase che è anche scritta nella quarta di copertina del mio libro. Sala Tramogge gremita a Bustarsizio per l'incontro con lo scrittore Andrea Franzoso, invitato dal liceo scientifico Tosi a presentare nella settimana dedicata al cyberbullismo il suo libro Era un bullo, la vera storia di Daniel Zaccaro, giovane di quarto giaro, diventato un rapinatore di banchi, un molestatore pronto alla rissa violenta, tanto da finire al carcere minorile Beccaria, dove ha finalmente incontrato degli adulti che definisce credibili, non frustrati, che si assumono delle responsabilità. Lui che aveva abbandonato la scuola, non voleva saperne di libri, non voleva saperne dello studio, ha completato gli studi grazie all'incontro con una professoressa di lettere in pensione, Fiorella, che faceva volontaria in carcere, che lo ha appassionato così tanto che Daniel è andato oltre i programmi scolastici e addirittura con lei ha letto l'inferno di Dante. Cioè la passione di questo insegnante, con la passione, ha acceso anche Daniel. A proposito di insegnanti e di ragazzi difficili, proprio ieri nella vicina Varese uno studente ha accoltellato un insegnante. Oltre agli insegnanti vengono picchiati spesso anche i medici, i infermieri, quelle categorie che un tempo erano molto rispettate, avevano un'autorevolezza, avevano anche un prestigio sociale. Oggi purtroppo sono svalutate, le famiglie spesso non hanno alcun rispetto degli insegnanti, troppo spesso fanno gli sindacalisti dei figli, che è un modo per farsi perdonare della mancanza di tempo di qualità che non affrono più loro. E poi un altro punto di vista provocatorio a dir poco è quello della CISL. Il sindacato scuola della CISL, per voce del suo segretario, intende invocare un aumento di vigilanza nelle scuole, un po' sullo stile americano. Addetti alla vigilanza, a difesa delle scuole, una proposta forte, quella della CISL dei Laghi e del suo segretario di categoria, Francesco Falsetti, il quale esprime dolore e preoccupazione per quanto accaduto all'Enaiper di Varese. Non un caso isolato, bensì un ennesimo sintomo di malessere, dice, che deve spingere le istituzioni a reazioni concrete quanto immediate. Ecco allora la richiesta del sindacato, che invoca l'introduzione negli istituti di personale di sicurezza, come già avviene nei supermercati, allo stadio, in banca e come già in uso in numerosi campus americani. Non proprio uno scenario educativo e rassicurante, ma chiosa falsetti, necessario. E poi c'è la componente politica. Ieri vi raccontavamo l'annuncio del ministro dell'istruzione, Valditare, il quale ha promesso tutela legale a carico dello Stato e a difesa della professoressa Ferita. Doveroso, secondo il PD Samuele Astuti, ma non basta. Quello che è successo ieri a Varese è grave, gravissimo, grandissima solidarietà all'insegnante. In realtà non è il primo evento, sicuramente uno dei più brutali, ma negli ultimi mesi ce ne sono stati diversi. La risposta del ministro Valditare però è assolutamente insufficiente. Noi non dobbiamo curare gli effetti, mandare la polizia all'interno delle scuole. Noi dobbiamo invece lavorare sulle cause. La salute mentale è un tema molto serio e che va affrontato seriamente. Noi in questi anni abbiamo fatto molte proposte perché ci fosse il ritorno di un'attenzione all'assolute mentale anche all'interno delle scuole ed è su questo che dobbiamo lavorare ed è su questo che continueremo a lavorare anche nelle prossime settimane. L'assolute mentale è un tema serio, è ritornato nel dibattito pubblico. Adesso però il problema va affrontato con azioni concrete. Lasciamo dunque quanto avvenuto alla scuola di Varese, ma torneremo a parlarne puntualmente domani con tutti gli aggiornamenti del caso. Adesso andiamo a Saronno dove due fratelli sono stati arrestati nello stesso giorno, entrambi per rapina. Il primo è il 32enne che ha cercato di rovistare in una scuola evidentemente per rubare qualcosa. È stato sorpreso da un dipendente, tra l'altro lo ha anche minacciato con un coltello e poi preso a bastonate. Di lì a poco i militari dell'arma lo hanno arrestato. In tarda serata però, dello stesso giorno, parliamo del 31 gennaio, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi, gli stessi carabinieri hanno arrestato un altro uomo, stavolta più che quarantenne, che ha aggredito e rapinato una donna nel sottopasso della stazione. Anche in questo caso le forze dell'ordine lo hanno bloccato di lì a poco e si è scoperto essere il fratello del primo arrestato. Adesso sono entrambi rinchiusi nel carcere di Buster Sizio. E voltiamo ancora la pagina, andiamo a parlare di educazione da alta quota, diciamo così, perché è iniziata ieri e durerà per tutta la settimana una bella avventura degli studenti del liceo scientifico di Varese all'Aeroclub di Calcinate. Un minicorso per piloti rivolto agli studenti del liceo Ferraris di Varese in prospettiva replicabile con tanti altri ragazzi. È il progetto formativo avviato all'Aeroclub delle Orsi di Calcinate, dove la presidente Caraffini plaude all'iniziativa condivisa con l'ufficio scolastico sulla scia del centesimo anniversario dell'aeronautica. È una iniziativa, secondo me, estremamente importante che coniuga il territorio e le possibilità che il territorio dà ai ragazzi di poter sperimentare le proprie esperienze imparate a scuola con proprio le realtà e gli sbocchi che tutte queste attività possono dare. Primi giorni dedicati alla teoria, collezioni di tecniche e di meteorologia, dopodiché si decolla. Tutti i ragazzi avranno la possibilità di volare sull'agliante e di vedere anche come viene fatta la manutenzione degli aerei da traino e della ripiegatura dei paracadute. Quindi sarà un'esperienza veramente, veramente interessante. Sempre di studenti parliamo, ma in questo caso parliamo anche di spettacolo, di fiction e di serie molto seguite ormai da anni. Il protagonista del prossimo servizio, che arriva da Busto e Sizio, è un ragazzo che si è formato all'Istituto Antonioni e poi è approdato nel cast di Un Posto al Sole. È stato scritturato per interpretare il ruolo del parroco nella celebre sopopera Un Posto al Sole, ma, ci spiega l'attore originario del Burkina Faso, senza gli studi all'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto al Sizio probabilmente non ce l'avrebbe mai fatta. Io prima di iniziare l'accademia non sapevo che un attore che fa una parte non è quel personaggio. Infatti io ricordo una volta che mi dessero da preparare un monologo di L'Avvocato del Diavolo con Al Pacino e io feci di tutto per non prepararlo perché, essendo musulmano, mi era molto difficile, tra virgolette, essere d'accordo con quello che diceva il personaggio. Però poi ho capito con gli studi che io sono solamente un mezzo, do voce e corpo ai personaggi, ma non sono io, effettivamente è quello che fa il personaggio. E quindi l'Antonioni mi ha aiutato molto a capire e a distaccarmi da questa cosa qua. Raccontaci l'emozione di avere questo ruolo in una serie così seguita come Un Posto al Sole. È stata una gran bella emozione perché prima di tutto è arrivato in un momento molto importante perché arrivavo da tante audizioni andate male e quindi iniziavo a dubitare di me stesso, delle mie capacità o semplicemente del fatto che avessi scelto la strada sbagliata. Quindi vi lascio immaginare la gioia, il balletto che ho fatto quando la gente mi ha detto ti hanno preso. E ora la pagina dedicata alla salute, la direzione strategica di SST Sette Laghi, cui fanno riferimento diversi ospedali del territorio, avvia il nuovo corso, promette un rafforzamento di pronto soccorso, interventi a taradate, ma anche alcuni traslochi. Per esempio addio alla sede di Velate, l'odontostamatologia a Proda al Circo. Nuovo anno, direzione strategica ai blocchi di partenze, un periodo ricco di sfide per SST Sette Laghi che sotto la guida di Giuseppe Micale promette di rafforzare il pronto soccorso, garantendone l'operatività 24 ore su 24 e arricchendoli con un ambulatorio per i codici minori. In arrivo interventi strutturali a taradate, confermati gli ospedali di comunità, Aluino e Quasso, tema quest'ultimo che richiama in conferenza stampa un attento sindaco, Enrico Bianchi. E ancora addio al distaccamento di Velate con l'approdo al circolo dell'odontostomatologia. Solo alcuni spunti dei tanti snocciolati a Villa Tamagno a pochi passi dal maxicantiere scavato nel cuore dell'ospedale. È tutto un cantiere, l'ospedale di Varese in particolare. Abbiamo la nuova dialisi, abbiamo il nuovo monoblocco, detto monoblocchino 2, che conterrà ambulatori, dialisi come ho detto prima, anche l'odontostomatologia di Velate verrà qui. Grande attenzione per le cronicità e i servizi territoriali decentrati. Il grande obiettivo dei due ospedali di comunità che dovranno partire sul Uino e Quasso al Monte è con le nuove e ultime case di comunità che dovranno partire dalla seconda parte del 24 a tutto il 25. Tutto cambia a cominciare da priorità e criticità di un sistema sociosanitario in continua evoluzione, cosa che non spaventa la neodirettrice sanitaria, forte di un'esperienza trentennale e di tante rivoluzioni già affrontate e vinte. Ho vissuto assolutamente tutta l'evoluzione, dall'ex-usl alle aziende ospedaliere e alle aziende sociosanitarie territoriali. Quindi ovvio che siamo chiamati a un cambiamento, ma siamo anche un po' allenati. Resta problematico per tutti il bisogno di personale medico e ancora di più infermieristico. Per questo la direzione generale promette di affrontare il cambiamento senza mai abdicare alla centralità degli operatori i quali sono e restano il cuore pulsante di qualunque sviluppo. La risorsa fondamentale per poter progettare, innovare e portare avanti lo sviluppo sia del polo ospedaliero sia del polo territoriale. E a proposito di salute, cercansi farmaci per decine di migliaia di persone. Partita oggi, proseguirà fino al 12 febbraio la raccolta solidale del farmaco, in prima linea come sempre il Banco Farmaceutico. Numeri impressionanti quelli degli obiettivi che si spera di raggiungere, un milione di confezioni per quasi mezzo milione di indigenti. 5.600 farmacie coinvolte in tutta Italia, supportate da 25.000 volontari e 19.000 professionisti. Un vero e proprio esercito che attende a braccia aperte tutti coloro che vorranno donare medicinali a persone indigenti. La soglia da varcare è quella del 2023, con quasi 600.000 confezioni raccolte per un valore di oltre 5 milioni di euro. E si tratta di una missione tutt'altro che semplice, perché gli organizzatori della Fondazione Banco Farmaceutico puntano a soddisfare la richiesta di 427.000 persone in difficoltà che attendono oltre un milione di farmaci. Partita il 6 febbraio, la manifestazione di quest'anno prosegue fino a lunedì 12 con l'aiuto di Federfarma, della Federazione, degli ordini dei farmacisti e col sostegno di tutti coloro che vorranno dedicare al prossimo un po' di tempo, un po' di soldi, un po' di empatia. Abbiamo parlato tanto di ragazzi studenti, adesso scendiamo nettamente in termini di età, ci spostiamo a Gallarate e parliamo proprio dei bimbi più piccoli, di famiglie a cui l'amministrazione comunale tende una mano sotto forma di tessera. A Gallarate, dopo l'inaugurazione dello spazio mamma nella biblioteca comunale di Piazza San Lorenzo, un'altra iniziativa dedicata alle famiglie. Abbiamo introdotto ieri sera il fattore famiglie Gallarate, l'abbiamo presentato durante la commissione Welfare, con me Luigi Galluppi, consigliere comunale con le deleghe alle politiche della famiglia. Che cos'è il fattore famiglia? È un regolatore per l'accesso ad alcuni provvedimenti e ad alcuni servizi comunali a domanda individuale. L'abbiamo mutuato dal fattore famiglia regionale che è in vigore già da diversi anni e l'abbiamo traslato sulla nostra città. Per la prima volta lo applicheremo alla BB Card in uscita a metà febbraio e sostanzialmente saranno dei soldi dati in più alle famiglie che hanno determinati valori, come ad esempio un disabile in casa, tre o quattro figli, un mutuo, la residenza da un tot di anni in città. Saranno agevolate queste famiglie rispetto magari a delle altre appunto perché hanno il fattore famiglia in più. I bambini sono protagonisti anche nella vicina Cassano Magnago dove prevenzione e salute la fanno da padrone con un'iniziativa che riguarderà oltre 250 piccoli. A Cassano Magnago un'iniziativa dedicata ai bimbi delle scuole primarie. È un'iniziativa che nasce dalla collaborazione tra CMS e Frami Lab coinvolgendo le nostre scuole, uno screening ortottico che vorremmo eseguire all'interno delle scuole primarie che non si limiti a questa annualità ma che sia un programma che vada avanti nel tempo. Un'iniziativa in cui crediamo molto ha sottolineato il sindaco Pietro Ottaviani alla presentazione del progetto a cui hanno aderito oltre 250 studenti. La dottoressa Chiara Nicolini che ringrazio che è l'ortottista che si è messa a disposizione avrà a disposizione della strumentazione diagnostica e dei test per poter evidenziare, speriamo in pochi bambini, eventuali problematiche in maniera tale da poter indirizzare poi i genitori a portare i propri figli dal proprio oculista di fiducia per degli approfondimenti. Sarà un'occasione importantissima per i nostri alunni ma soprattutto per le nostre famiglie che già nelle sedi opportune hanno evidenziato il grande valore di questa iniziativa. Nell'altissima decisione che c'è stata da parte delle famiglie si evince che c'è una situazione di tanta sensibilità e sensibilizzazione verso la problematica. Si inizia con il Carnevale Bosino che torna puntuale come un orologio e tra l'altro con i carri in movimento. La battuta è legata al fatto che l'anno scorso come ricorderete i carri allegorici a Varese erano rimasti stanziali in piazza Montegrappa per diversi motivi, alcuni di quali erano stati fortemente criticati e adesso perlomeno i carri tornano a muoversi, non per lunghi tratti ma almeno si muovono. In ogni caso guardiamo al programma presentato oggi in comune dalla famiglia Bosina, sabato prossimo la consegna delle chiavi al Re Bosino, poi tutta una settimana di iniziative, soprattutto quelle solidali previste giovedì e sabato 17 torna appunto alla grande festa allegorica. Ecco i dettagli. Eppur si muove la macchina della tradizione Bosina a riferimento al Carnevale che torna, ma anche ai carri allegorici che si rimettono in moto dopo la versione stanziale dell'anno scorso. La settimana in maschera comincia sabato 10 febbraio con la consegna delle chiavi a Re Bosino, prosegue il giovedì con le visite della famiglia al Day Center dell'Ospedale del Ponte e all'Anaconda e vivrà il suo momento clou sabato 17 grazie allo sforzo congiunto di tanti attori. La famiglia Bosina quest'anno ha fatto una ristrutturazione del Carnevale dell'anno scorso, il committente è sempre il comune di Varese. La progettazione Direzione Lavori e Sicurezza è della famiglia Bosina in grande collaborazione con le istituzioni, dalla Polizia Locale alla Questura, alla Prefettura e a tutte le istituzioni varesine. Saremo accompagnati per la sicurezza da tanti gruppi e collaboratori perché quest'anno ci saranno anche dei carri che faranno il percorso quindi in movimento a differenza dell'anno scorso ma arriveranno davanti alla Camera di Commercio sempre in Piazza Montegrappa. Quindi in Piazza Montegrappa ci sarà il clou della giornata. In chiusura premiazione del miglior caro e della mascherina d'oro per partecipare bambini e famiglie sono invitati a consultare il sito della famiglia Bosina. Per la pagina sportiva iniziamo con un grande evento, una Due Giorni che ha richiamato 1500 spettatori alla 5 Ice Arena che si conferma Tempio del Ghiaccio. In questo caso protagonisti, i giovani pattinatori in arrivo a tutta Italia. Sipario chiuso, successo incoraggiante. I campionati italiani junior di pattinaggio di figura hanno confermato la centralità della 5 Ice Arena e di una Varese che sta giocando un ruolo da protagonista negli sport del ghiaccio. Evoluzioni, salti e eleganza hanno conquistato un pubblico nutrito, viste le 1500 presenze registrate nella Due Giorni di Gare. In cabina regia la Varese Ghiaccio con l'importante supporto della Sport Commission, articolazione agonistica e attrattiva della Camera di Commercio. Per quanto concerne la classifica, hanno Emi Ios della Ice Skating Bolzano il gardino più alto del podio femminile, a Matteo Nalbone di Ice Lab, loro maschile di Ice Lab, anche i vincitori in coppia Irina Napolitano e Edoardo Comi a consegnare i premi vertici dell'amministrazione comunale e di Camera di Commercio con la campionessa Federica Cesarini. Decisamente una giornata speciale per i bambini della scuola Canetta di Varese, ospita infatti il Varese Calcio con il mister e un giocatore. Queste mattinate sono fondamentali, la crescita formativa dei nostri alunni passa attraverso l'attività sportiva, in particolare l'attività dello sport di squadra dove imparano a relazionare con gli altri e a rispettare le regole e a crescere in maniera sana. Sono del parere che queste cose vanno fatte, perché è un lavoro, poi ci si fa conoscere, poi rendono anche conto con chi sono a contatto e tutto, perché poi nel quotidiano, in un'intervista, in un semplice ciao, non si capiscono le persone. Così, vero Pietro? Sono diventato amico di Pietro? Sono diventato amico di Pietro, dove è Giada? Non c'è Giada? Sono qui! Eh, eccola qua, è Giada. È un'emozione incredibile poter dare a questi bambini la gioia più immensa, perché poi fin da quando si è bambini correre dietro a un pallone è la cosa più importante, è la cosa più bella che ci sia, quindi è un'emozione incredibile. Dunque, siamo alla nostra programmazione serale, alle 21 il film Get Well Son, alle 23 il divertimento del Mi Piace Talk, alle 23.30 una famiglia quasi perfetta. Io mi fermo qui, vi ringrazio e vi saluto. Buona serata.